Sulle pagine del blog Il Nuovo Mondo di Galatea, l'anno scorso ha trovato posto la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in una chiave molto positiva. Un parere sull'edizione 2014? Beh, a me ha portato una grandissima fortuna l'edizione dell'anno scorso. Dopo sono riuscita a pubblicare il mio libro e quindi me ne avete invitato anche quest'anno. E quindi il parere è favorevolissimo, io vi adotto come porta fortuna. Si parla tanto di promozione dei beni culturali. Il blog Internet è una nuova forma di comunicazione che può essere adoperata anche per ridurre le distanze tra gli utenti e il mondo dell'arte. Lei cosa ne pensa? Che assolutamente sì, non solo il mondo dell'arte ma della storia dell'archeologia in generale. Il mio blog si occupa appunto proprio di quello divulgando le biografie molto divertenti di personaggi del mondo antico. Quindi è un modo per avvicinare i lettori in un modo magari un po' insolito però fondamentale sui nuovi media. Prima diceva appunto che questi interventi sono stati raccolti in un libro, ci puoi dire qualcosa in più? Sì, il libro si chiama Didone per esempio ed è uscito per Castelvecchi Editore. E appunto visto il grande successo del blog perché ho quasi 3 milioni di contatti, quindi insomma una corazzata su internet, adesso sono stati riuniti nel primo volume e sto scrivendo il secondo. In bocca al lupo. Creti, grazie. Perfetto.